Ciao a tutti e bentornati nella mia stanza. Allora, continuiamo a parlare dei personaggi Bonelli. Dopo aver affrontato la fantascienza nel video della scorsa settimana, oggi andiamo a parlare di un mondo post-catastrofe, post-grande tenebra. Sto parlando di un personaggio creato dal grande Chiaverotti nel 1998 ed era il primo bimestrale, nato come bimestrale, in casa Bonelli. Sto parlando di Brandon Darkness, questa che vedete è la copertina meravigliosa del primo numero che si intitola Nato il 31 febbraio. È una serie di 100 numeri che parla di un cavaliere di ventura che si chiama appunto Brandon Darkness che si muove nella Nuova Inghilterra, che è una zona, praticamente l'Inghilterra, dopo che c'è stato un cataclisma e che ha portato praticamente alla distruzione del mondo come noi lo conosciamo. Qual è la particolarità? La particolarità è che Brandon è un eroe romantico. Potrebbe essere Dylan, potrebbe essere Dylan Dog. In un numero lui raggiunge la vecchia Londra, Old London, e si vede un maggiolone bianco con cappotte nera, ormai quasi distrutto, con la scritta Hello Zombie o qualcosa del genere. Proprio un richiamo a Dylan di cui Chiaverotti ha scritto alcune delle sue storie, delle storie migliori. illustrato da Corradoroi, quindi la copertina è di Corradoroi, i disegni dei primi numeri sono di un Corradoroi in stato di grazia, racconta appunto di un mondo fantasy post-catastrofe, post-cataclisma. Questo è il mondo fantasy in cui Brandon Darkness si muove, sullo sfondo si vedono i resti dell'antica civiltà. Lui ha un cavallo che si chiama Falstaff, con una macchia bianca qui in fronte che può governare soltanto lui, vive in un maniero residuato dell'antica epoca, dell'antica era, pieno di chanfrusaglia, che questo è un rimando al corridoio di Dylan, pieno di mostri situati in giro per appunto il corridoio, e il Christopher, che è un robottino a energia solare che continua a funzionare ed è il suo maggiordomo, con tutte le ricette del precatastrofe, che forse ancora non sa che deve smettere di funzionare, perché è l'ultimo sopravvissuto. Chi sono i cattivi? I cattivi sono mostri, mutanti, una setta, che è la terribile setta della Luna Nera, che scopriremo poi essere l'artefice tramite un rituale fatto nel passato, l'artefice del cataclisma, cioè loro hanno preannunciato, previsto e sperato l'arrivo di questo cataclisma. E Brandon lo scopriremo nell'arco dei cento numeri, che è legato a doppio filo a questo popolo, a questa setta. Ha con sé un giubbotto, un cappotto, che è un patchwork di varie stoffe, come un rimasuglio della vecchia epoca, e ha un fucile a canne mozze, una doppietta, scusate, a canne mozze, che lui chiama il suo ferro vecchio. È una storia anche d'amore, perché più di una volta Brandon si innamora della coprotagonista dell'albo, della protagonista femminile, e a volte più di una volta ha un momento tragico, ha un finale tragico, ma anche un finale di speranza, perché diverse volte Brandon abbandona la propria vita per fermarsi e cominciare una nuova vita da agricoltore all'interno del mondo. Il mondo ha una nuova capitale, la Nuova Inghilterra, che è Alfa, la capitale, la città della scienza. Vedete, questi sono i disegni di Roy. È veramente strepitoso. Il numero uno, quando lo lessi nel lontano giugno-luglio del 98, mi lasciò a bocca aperta, perché all'epoca di fantasy non ce n'era. Questo è il primo numero. Il secondo colpì tutti con la forza di un maglio. Il secondo si chiamava Lacrima di Tenebra e c'è il grande amore di Brandon. Ce lo presenta subito Chiaverotti, una guerriera, un'assassina dell'esercito di Ninfa, che è uno degli eserciti più terribili, più terribili non credo che si dica, però supponiamo di sì, del mondo, che sono le guerriere di Ninfa, di Ninfa, qualcosa del genere. Lei si chiama Anya e Anya è il grande amore di Brandon. Tornerà diverse volte. Qui lei si sacrifica per aiutarlo. Una storia romantica e struggente. Poi Labonelli ha cavalcato questa storia d'amore ristampando, perché Anya tornerà nei cento albi per almeno altre due volte a trovare il suo amato, a trovare il suo amore. Comparirà, sì, minimo un altro paio di volte. Labonelli ci ha marciato su questa cosa e ha fatto uscire un cartonato con le storie a colori di Anya e una nuova copertina. Io non l'ho mai comprato, ecco, perché avendo gli originali mi sembrava una spesa superflua, però poi ho compensato andando a spendere, non mi ricordo quanto, per comprare il numero zero, che era una serie di tavole spillate insieme, vendute insieme al comic con Napoli, qualcosa così. Io sono molto affezionato a Brandon, perché nel numero 75, che è questo, l'ultimo, allora voi dovete sapere che una volta, nei bei tempi che furono, c'era l'usanza di scrivere alle case editrici. Si mandavano le lettere, si mandavano le lettere in via Buona a Roti 38, c'era la rubrica, la posta di Brandon e si sperava che Labonelli ti leggesse e o ti rispondesse privatamente o che pubblicasse la tua lettera nella rubrica. Io sono veramente contento, perché nel numero 75, non so se mia moglie lo sa, non so se mia moglie lo sa, ma penso che lo scoprirà guardando il video, nel numero 75, che è questo, datato ottobre-novembre del 2010, c'è scritto un saluto in particolare a Mirko di Montecatini Terme, di Stoia, che ha trovato in Martina la sua Anja, il suo lume nella notte. Questa era la dichiarazione d'amore che è finita su Brandon, numero 75, l'ultimo volo per Londra. Come finisce Brandon? Brandon è vittima anche degli ascolti, è vittima delle vendite, per capirsi. Purtroppo la qualità non era più altissima. Chiaverotti riuscì ad ottenere, in virtù dell'amicizia che lo legava a Sergio Bonelli prima e ad Andrea Bonelli, credo si chiami Andrea, non vorrei far gaff, il figlio di Sergio, riuscì ad ottenere di poterla chiudere al numero 100. Quindi, al numero 99, ottobre-novembre 2014, c'è il finale, che si intitola Luna Nera Calante, dove torna con Radoroi, scusate, ho detto una scemenza, dove c'è i disegni di Liotti, la copertina di Rotundo, c'è il Ruder all'inizio che fa capire che ormai siamo prossimi alla fine, dove c'è lo scontro con la Luna Nera, quello che succederà con Zender, l'Opsionico, che è l'amico che viene posseduto dal Demone della Luna Nera, questo è il numero 99, e poi si conclude in uno struggente numero 100, che è questo, che è un numero fuori continuity, tra virgolette, che si intitola La Notte degli Addie. Una cosa veramente struggente, qui torna Chiaverotti alla sceneggiatura, Roy ai disegni, è un numero che fa piangere, è un numero che fa piangere, però lascia anche quello, la speranza che non sia soltanto un addio, ma che sia un arrivederci per il Cavaliere di Ventura, che tutti noi amanti di Fumetti Bonelli abbiamo amato. Finisce così, con il numero 100, La Notte degli Addie. Dietro c'è scritto Ma questo non è un vero addio, presto vi porterò con me lungo i sentieri della nuova Europa, perché tutto il mondo è stato distrutto dall'olocausto, da questo evento apocalittico, e quindi Brandon ci aveva promesso che ci avrebbe portato in giro per tutta Europa, per tutta la nuova Europa. Brandon ha avuto una serie di speciali, speciali che erano storie fuori continuiti, però molto belle, veramente molto belle, ricordo una che era Il Potere delle Parole o qualcosa del genere, e poi un numero dove io ho scritto su Facebook, perché poi gli anni sono passati, Brandon è cominciato nel 98, e questo vi faccio vedere lo speciale numero 13 di Brandon, che è nell'agosto del 2016, uno speciale a colori, dove Chiaverotti fa incontrare la sua vecchia creatura Brandon con la sua nuova creatura che stava in quei momenti uscendo da il thriller che stava uscendo ora per la Bonelli, in una bellissima tricromia, perché lui appunto vede in rosso, che è Morgan Lost, e in questo numero Brandon e Morgan Lost speciale la mappa delle stelle, qui c'è l'incontro fra Morgan Lost e Brandon Darkness, è un incontro che ve lo faccio vedere, io ho scritto a Chiaverotti che l'ho odiato in questo momento, e ormai è un numero vecchio perché siamo ad agosto 2016, ora sto registrando questo video andrà in onda a settembre 2020, quindi esattamente quattro anni dopo l'uscita di questo numero, come potete vedere sulla spiaggia Brandon a cavallo incontra Morgan, si guardano in faccia, si guardano in faccia senza dire una parola e si saluta, e questo è il passaggio di testimone fra Brandon Darkness e Morgan Lost, quindi il cavaliere di ventura che va a caccia di mostri nel mondo post-catastrofe, post-tenebra della nuova Inghilterra che saluta il cacciatore di serial killer che vive nell'universo cronico inventato da Chiaverotti. Allora, come dicono quelli bravi, io ormai ve lo ripeto, iscrivetevi al canale, condividete il video, ditemi sotto nei commenti se conoscevate Brandon Darkness, se vi piaceva, cosa ne pensate anche di Morgan Lost a questo punto, se volete fare, faccio una chiacchierata anche su Morgan Lost, che a me mi piacerebbe farla, però mi piego a quello che dice il pubblico finché nei limiti della decenza, vi invito se non ve l'ho già detto lo ripeto a iscrivervi al canale, a condividere il video e a mettere anche un bel like e noi ci vediamo giovedì prossimo, ciao e alla prossima!